Io sono Lorenzo, fondamentalmente eseguo la parte di vinificazione. Un buon vino è quello che finisce, quello in cui la bottiglia è sul tavolo e a fine serata è vuota. La cosa che mi piace di più del mio lavoro è che non ha una routine specifica. Sì, certo, c'è tutto l'andamento stagionale nella produzione, però non si ripete mai giorno per giorno. E poi in un'azienda come quella che abbiamo a Monteferalle abbiamo l'opportunità di incontrare veramente tantissime persone che ci vengono a trovare. È un po' come dice mio padre, è come viaggiare il mondo rimanendo fermi. La mia più grande soddisfazione è quando dopo aver presentato i nostri vini, parlato con le persone, fatte assaggiare, queste rimangano entusiaste e non vorrebbero più andare via. Continuo a ringraziarti per quello che gli hai offerto, ma anche per come gliel'hai spiegato, per come gli hai fatto capire tutto ciò che sta dietro a quel bicchiere che loro hanno assaggiato. Grazie.